Ultimi giorni per firmare le petizioni online rispettivamente in materia di cittadinanza chiedendo all'Italia la restituzione di quella d'origine a chi l'abbia perduta e per l'esenzione dei cittadini italiani residenti all'estero dal pagamento dell'IMU sulla prima casa non locata. Ad oggi 203 le sottoscrizioni ottenute per la prima, oltre un centinaio per la seconda. L'iniziativa, spiega il presidente Diego Renzi, è partita dai comites esteri a cui il comitato samarinese ha da subito dato manforte, potenziando l'appello sul titano. Una volta chiusa la raccolta firme online, partirà contestualmente, si presume già ad inizio 2021, la raccolta firme cartacea, organizzando banchetti in vari punti del territorio, di certo all'ingresso delle mense. Petizioni che saranno poi trasferite per iscritto ai presidenti di Camera e Senato. Sono battaglie fondamentali, aggiunge il vicepresidente Alessandro Amadei, sia per i connazionali che vivono all'estero, sia per chi risiede in Italia. Una partecipazione numerosa, hanno risposto i nostri concittadini in maniera molto positiva e a questa raccolta online che stiamo facendo seguirà una raccolta delle firme sul cartaceo per presentare nel 2021 una petizione scritta alle due Camere. Sulla cittadinanza ha rimarcata dunque l'affermazione di un diritto contro una misura definita discriminatoria, poiché toglie un requisito essenziale. Si chiede in sostanza la riapertura dei termini affinché chi l'abbia persa possa riacquisirla, introducendo tra le modifiche alla legge quadro italiana in materia il divieto di rinuncia. L'Imu, invece, viene ritenuta un balzello fiscale ingiusto e iniqua per più ragioni, perché si basa su un valore catastale dell'immobile non aggiornato, perché non fa distinzioni di reddito, perché, spiegano infine, grava su un mercato già in crisi e non risolve neppure le problematiche di disavanzo degli stessi comuni che la emettono.